ci siamo moltiplicati ragazzi come vedete siamo in quadro adesso su takedown redsaver ci piace così tanto questo gioco ci sono due nuove apostoli che hanno obbligato che ve l'ho preso io il gioco sto capolavoro umano allora cominciamo con una nuova mappa che non hanno mai giocato ovviamente subiranno lo shock iniziale del gioco bisognerebbe trovare le bombe qui no no caccia tango caccia tango ok vabbè quando siamo belli quanto siamo belli a destra io ho visto qualcuno speciale io ho capire il culo di qualcuno ho visto il culo sopra io ho paura ammazzato qua possono venire anche da dietro mamma mia da dietro e qualcuno guardi sulla sinistra l'ha aperta fai quella porta sopra cacchio quanti sono ma togliti da stocchinato di merda vaffanculo attenzione 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 stanno tutti stanno tutti alla destra stanno tutti alla destra sono morti ma che morti si l'ho ucciso io uno ma è posto tipo così sta sopra sopra no sono io che sto smitragliando a mano morto ce n'è uno qua sopra noi raga ma che cazzo ma hai detto tu dietro dietro sono io dietro di noi ho detto dietro di sparare io vado per istinto a farti friggere dietro io vado a farti friggere vado poi friend li fai a rire io odio sono morto non si capisce più nulla siamo scordinatisti siamo troppi non so neanche quali sono i nemici io ma non si distinguono sono uguali oddio andiamo avanti vai andate avanti dai mi sorveglio io dall'alto è l'angelo custode eh peccato che sto vedendo crazy eh sono qui sono qui vi coprivo dietro non rompere le scatole oh sta mappa c'è troppo in via aspetta chiudo la porta spacebar vai io ciudo la porta oh attenta attenta ah no sinistra adesso ho sentito qualcuno che sta arrivando ah anche se l'hai sentito è venuta dalla porta costa oddio mi hanno sparato oddio te l'ho detto io che stava arrivando qualcuno un colpo in culo non son morto però passiamo di qua venite vieni clay aspetta chiudo la porta chiudo la porta se no io sto vedendo solo te se tu rimani indietro sei innamorato di te perchè sei solo me eh non so ma puoi switchare la telecamera no eh come non so non esiste click mouse clay vieni qua dai eh sto qua no non è uno no sbagliato ah ma hai messo la mappa è troppo aperta aspetta fermo no sono più o meno aperta c'è uno davanti a voi eh c'è uno davanti a voi morto è morto c'era uno infatti davanti lo avevo visto l'ho ucciso l'ho ucciso ok entriamo vieni qua entra qua Caetano muoviti apri la porta ah ok entra Caetano è morto Caetano cazzo stai a dire eh scusa non è neanche Antonio volevo dire volevo dire Antonio ah vabbè niente ho chiuso la porta non si apre sta porta come mai iniziamo ah no apri la porta io vedo la testa di Daniele che si conclude non si cambia non si apre non si apre guardiamo stavolta e ce ne sono 10 boom aspetta esco io oh guarda quello si sta muovendo guarda a destra guarda voi ce n'è uno sopra proprio sopra il tetto lo intravisto eh ma da quelle fessure vi può sparare eh che dobbiamo fare sta mappa a destra a destra a destra ah lo sto guardando lib sulla tua sinistra ora lo vedi? morto 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 ragazzi seccato oddio un altro dai sta di spalla morto ok oddio stavo per sparare a Shepard ho visto uno che usciva a Shepard attento perciò vi ho detto state tutti uniti oddio un altro no mi aveva seccato state tutti uniti altrimenti sto qua dietro di te io no dove stava Shepard no ma azzanzi ah raga ce n'è uno qua sopra che sta camminando oddio io qua sto proprio in campo apertissimo no sta mappa è brutta da sopra da sopra oh seguite Daniele no me hanno ucciso ho detto seguite Daniele le porto Daniele vai Clay Clay ma dov'è Antonio scusami eccolo eccolo ce n'è uno ma che cazzo no la tutti i morti ma non mi dire eccolo eccolo ce n'è uno dimmi dove oddio sei inutile ma sto gioco fa schifo vabbè ma che oh ma che stai a dire dai adesso cambiamo mappa dai metti la mappa più a chiuse mamma mia metti la mappa con gitman così si riconoscono si innesco bomba con knight hq bella sopra punto di inserzione sopra ah questa è quella lì del vetro che riflette tutto la no ho messo sopra dai mettete sopra sopra mettiamo sopra vai il primo quello di io cambio squadra vado contro voi no non puoi andare contro di noi perchè 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 questa è cooperativa c'è sta anche la competitiva ma sinceramente non l'ho mai provata e non c'ho voglia ah possiamo fare due contro due? eh la dobbiamo provare dobbiamo provarla a fare ragazzi premi V Clay poi oddio mi si è bloccato il gioco aspetta mi fa caricamento a me non so se mi ha buttato fuori un'altra volta oppure mi si è bloccato il gioco mi si è bloccato il gioco ottimo mi sa che mi ha buttato si mi ha buttato fuori ok siamo a caricamento della mappa finalmente dopo che abbiamo dovuto ricreare la stanza che cavolo eh un po' di luce un po' di luce ecco ora sono uscito io giusto per curiosità giusto per curiosità giratevi verso di me con sta torcia e vi vedono subito in questa maniera cos'è è entrato anche Shepard eccolo illuminiamolo dai su attenti qua questa bisogna trovare le bombe una cosa ma ci vedono con la torcia spegnila spegni 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 se no ti scoprono su io non so come la spegno allora io sei già vu hanno la testa pelata quindi non c'è non potete sbagliare riferte la luce riferte la luce sul testa pelata io hanno la testa pelata questo che è lei attenzione se vedete non so mamma mia stai mappi eh vabbè quanto siamo brutti ma non è un po' troppo aperta sta mappa nooo infatti dovremmo entrare nella struttura entriamo nella struttura va si io non ci arrivo già lo so entriamo nella struttura altrimenti di qua ci cecchino sto davanti io ma si vai vai è il suicidio il problema non leggo neanche i giocatori quindi non posso dire a sinistra libo quello eh si se punti il mirino se c'è il mirino sui piedi ti lo leggo però non so poi a quello in quel momento gli avversari hanno smoking sono dei yeatmen in questo in questa mappa qui gente è impossibile che oh entriamo che non mi piace lì si ma qua dentro è peggio ancora quindi stiamo attenti oh 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 chi è che ci sta sparando chi è che spara oddio oddio l'ho beccato ma che cosa era no andate avanti oddio ancora un altro oddio un altro ancora dentro è peggio oh è un grande che state a fa' la aiuto e ci stai trovando fai putta granata fire in the hole nooo non ti ho ucciso io eh stardi ero da solo là dentro ce ne stanno 3000 su quelle balconate e io ho buttato la granata ma non ho capito dove stanno stanno sopra non la raggiungi con la granata non puoi salire da fuori andai ma che sta guarda che fa guarda che fa che è brutto ma che cazzo fa andate male aspetta mi sto strombando il muro ahahahah oh muoio cazzo cazzo dai che hero l'ha coppato ma andate da hero ma che stanno a fa' ma che stanno a fare ma io non mi metto scoperto ma sei matto io ho paura ma non mi metto ma non trovo l'arma ah ecco ora ho ricomparso ammazzateli pure voi qualcuno ma io non li vedo ma dove li vedo ma dove li vedo li sta inventate ahahahahah ma andate avanti dietro le colonne su dietro le colonne dai io vedo sto da gaetano ma io vado da clay va così non vedo nessuno seguitemi sulla scalinata ah ha succedito la voce ha succedito la voce ha succedito la voce corri 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 oh non mi sparare dai assali fuoco mi hanno sparato oddio dietro di te clay oddio spara boom dai no vai confessa chi sei guarda che ce n'è uno qua eh dai davanti cazzo ecco appunto qui qui appena entro in questa porta c'è uno state attenti mi ha seguito restroom sala stampa quella del lucca sembra togli di credito ma che cazzo hai fatto col cretino ma che cazzo hai fatto ho tirato la granata ti sei messo in me ma io vi ho detto non tirate ste granate ma sei un coglione sei ma che cazzo hai fatto ma stavo caricando per stirata stavo caricando io ho usato tanto i canali quando ero sicuro usarli lontano da voi ma io non li uso ma tu stavi lontano stavo caricando ti sei messo in mezzo proprio quando ha finito il caricamento dai proviamo un'altra cargo day e poi questa l'ultima dai dai ma non si può giocare con questi due qua ma che vuoi da me cosa ho fatto mettiamo sotto il punto di inserzione sotto sotto tutti sotto tutti sotto capito come si fa a mettere sotto che cazzo le so io clicca su punto di inserzione e fai sotto quello sotto secondo secondo ok vabbè ma io non l'ho mai selezionato vabbè metti pure te shepard quello sotto si li ho fatto ho fatto vai oddio mio è una fatica con stile la granata addosso a clay dai però è shepard che poi è morto pure lui si è deficiente si l'avevo già tutta caricata guarda delle ombre aspetta guarda delle ombre guarda delle ombre guarda delle ombre guarda delle ombre ah questa qui abbiamo scelto guarda che ambia interocclusion oddio dai saliamo saliamo sta scalitata già a bianca ma dove sta c'è manca qualcuno non puoi mai entrare in 4 sembra sempre in 3 poi un altro deva unisciti alla partita vabbè dai vabbè unisciti dai che almeno ci sono io l'importante è che ci aspetta ci aspettiamo dai gli metto sulle scale perchè mi ricordo che una puntata che ho visto di voi all'inizio qua era uno passato sotto le scale no ma non è qui non è a questa mappa è un'altra no era questa era questa oddio ci sono due simili ah cazzo hai scelto quello con i mitri hai scelto con i terroristi che lanciano il mito no io ho sparato io questo ero io l'ho ucciso comunque eh ma qui ci sono GRANATA no come granata non fatti scherzi andiamo vai saliamo tutti andiamo di qua va andate in quattro vento guarda dietro io guardo dietro no 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 te guarda avanti shepard guarda il culo te ci devi inquadra ti inquadra non sta morto vabbè io dietro rimango allora sulla destra non sta nessuno andiamo guardate sulla sinistra se c'è qualcuno io guardo lassù perchè non c'è un cerchino magari farà quel gabbiano che sta a rompe mamma mia oh oh no chi è che spara? oh chi è? io lo so io che spara al gabbiano e sta azzito oh cazzo chi è morto? Gaetano è stato accoppato mi è crollato vicino ragazzi aiuto io non ci vado ma dov'era? c'è uno è in una posa terribile da dove t'hanno sparato Gaetano? da dove sta Molib? levati Daniele levati Daniele levati spara una granata ma come spari una granata? levati da lì mettiti dietro di me metti dietro di me oh ma che sta facendo queste granate? ma come cazzo? se mi occupa vai tranquillo ok sono passato qua non si riesce a giocare però così come faccio a giocare? oddio ce ne sta uno quello lì è che mi ha ammazzato morto 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 come faccio a giocare così? ma perchè non ho silenziatore quando ho silenziato il mitracom silenziatore? ma che cazzo? chi c'è? c'è chi ci aiuto? mi ha visto a me mi ha visto a me quando sono passato credo sai? ma che quello che da da solo gridano no no te lo dico io no è vero è vero è vero stanno lì stanno lì te l'ho detto mi ha visto a me quando sono passato dai da una mano a clay uccisi? cazzo sono uscito munizioni ricarico sono infinite ricarica eh lo so sono bancate oh uno uno mori? morto morto andate avanti state sempre lì fermo andiamo andiamo vado avanti io dai attenzione di lanciare la manata là sopra io capro la parte sinistra minato c'è uno dimoni oddio 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 ma che cazzo è sti botti il capo danno io me stavo per sparare perchè ne vedevo 4 invece è Gatano che è morto in piedi ragazzi state attenti mi sembrava vivo mi sembrava è morto in piedi io non lo vedo in piedi granata è arrivata sopra allora perchè lancia tre granate ammetti di lanciare granate granate a chi l'ha inventate ste granate ehi entriamo dentro entriamo con me in questo gioco dovevano mettere in lancio granate perchè di qua di qua fammi entrare fammi entrare oddio dentro sta stanza secondo me c'è affacci se affacci qualcuno lancio granata se vuoi lancio granata se vuoi lancio granata se io va vai rima no non sto nessuno visto io non sto nessuno e ormai non sto nessuno e ormai ma io ho finito le granate oddio ma io ho finito le granate io pure la buttate eh tre ne avete a disposizione io ho una ah no neanche io ho una oddio di qua di qua ragazzi di qua com'è che avevo soltanto una granata io ne avevo due di qua non cambiarma più non ne ho armi vieni qua vieni qua si è bugato ah ora si è... si è bugato ma se spara l'estintore c'è uno morto ma se spara l'estintore cosa succede? non lo gli spara a favore no 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 non succede niente no niente dai un poligono così tanto ho messo è decorazione? ok oddio qua è troppo aperto ragazzi dietro me dovete coprire eh ah non sta nessuno in quella stanza dai ma che bello è inutile sta stanza come sparano da dietro senti te stavo per sparare eh infatti gli stavo di sparare gli stava di non sto nessuno allora non le sparate non le sparate aspetta che guardo io oddio no me l'ho accoppato aiuto vai ok i due principianti all'opera vai c'è uno mi sta venendo mi sta venendo incontro no clay vai vai ps oddio 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 vai uscisi vai vai andate 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 avanti non c'è nessuno vi ah no no andate avanti c'è uno c'è l'arma che va a destra ecco ecco eh mamma mia e spreca un caricatore mamma mia stava girato l'aveveste ogni cosa è girato era davanti a me era bisogna trovare la bomba oh mi spari a me e tu non passare ah ce n'è uno a destra eccolo eccolo oh bravo guarda che casino qua mamma mia dai entrate in qualche porta delle due eh un attimo fammi vedere se sono finiti di passare oh qui c'è la tangenziale qui in mezzo bisogna trovare le bombe vai avanti tu clay vai avanti dai su che c'hai paura dei nemici dai tutti morti vabbè 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 tranquillo come è un giocatore pro come te no non sa nessuno in questa stanza non c'è nessuna bomba qua non c'è nessuna bomba si ma c'è la finestra è un comodo la finestra ma fa che che devi fare dalla finestra non c'è il cazzo nessuno ti devi buttare dalla finestra si attento deve essere libero si è tutto libero ma si dai che questi non è che sono intelligenti si rimangono in una stanza per tutta la vita che non entri c'è un tavolo da ping pong no è testato un secondo chiezzo non c'è nessuno in quella stanza non c'è nessuno che belli sti quadri oh che belli sti quadri oh chi è? chi è? chi cazzo eh? aiuto ho sentito una smidragliata di fuori stanno eccolo ecco è il sito? si 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 vai andiamoci ehi a che servono le finestre? eh belle belle la finestra sul cortile adesso però dovresti uscire da questo edificio perchè non ci sia nulla esplorare questa stanza a destra vediamo se c'è una bomba per caso più di altro guarda tu shepard perchè trovare una bomba si trovare una bomba qua dentro è impossibile chissà dove starà ehi non c'è nessuno in quella in questa stanza c'è solo una finestra eccoli eh guarda quanti sono mamma mia dove stanno? fuori dalla finestra? sanno fuori sanno fuori l'ho visti almeno due almeno due ce ne stanno fuori dove? uuuuuh viene davanti ma ha mancato che culo attenti eh eh si un bel corridoio questo no no riesci fuori no io passo da qua cazzo vai grey ok io mi lasci da solo andate insieme andate insieme che state a fare neanche un po' di collaborazione questi due no cazzo sta io sono dentro sono il corridoio quello la adesso devi avertire shepard devi usci fuori la bomba sta fuori dai non sta qua esci da qua che ne sai non vincerei mai ah qua siamo già passati niente forse però aspetta passo da fuori e poi esco da qui si voi siete entrati no? le voci si sentono sempre non le senti sempre no andiamo dall'altra parte eccolo vedi che non le senti sempre eh fammelo dire adesso è bene che questi urlano come dei matti che si fanno sentire cazzo ecco vedi porca puttana sta arrivando sta arrivando i voci si sentono sempre sta arrivando sta arrivando ecco è passato correndo davanti esci dai esci vai a trovare sta bomba si da solo sai dove vado io guarda a sinistra ma l'hai ucciso? guarda che tanno quanto è brutto in piedi laggiù quei tanti corri corri ma non sono io quello come corri dai ditemi ma poi guarda come si muove guarda che belle animazioni si infatti si infatti guarda qua oh chi è quello? è uno è uno è uno a posto chi cazzo era? mamma mia ma sei rientrato di nuovo qui non rientrare qua esci devi trovare la bomba io ho paura non muore dai non stacca sotto guarda come cammini mi va più paura sto gioco che è hai visto dai ho toccato dead space il pannolino come va tutto a posto lo devo cambiare sta di sopra su mamma mia io non può sali da sta scala come non può slticabile mi raccomando mentre sali guardati intorno guardem noi guardemmo noi guardarmi questa a sinistra contemporaneamente ti guardo io ti guardo io dai non c'è nessuno tranquillo dai son tutti morti si sono tutti morti dai sali sopra sopra sali sopra sali sopra proprio non salgo sopra proprio no? Eh si, secondo me è qua Vai, dentro queste stanze starà la bomba, dai, non sta mica l'aperto Dentro la finestra non c'è niente, non c'è niente nella finestra Guardo io nelle finestre, non c'è, vai Tutto tranquillo, tutti morti, tutta tranquillo, tranquillo, non c'è nessuno Tutto tranquillo, va, va Tranquillo, tranquillo Ora c'è un angolo e c'è un angolo, c'è un giro A destra pare libero No, qui non c'è la bomba di sicuro Libero, 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 no, no, non c'è, non sta qua la bomba, dai, vai da un'altra stanza la bomba sta in una sala computer, cioè dove c'è qualche dispositivo elettronico no, quello lascia le verde qua c'è un orologio, uno screensaver bruttissimo, non c'è nessuno, attenzione qui niente ancora ma da cavolo l'hanno messo sta bene ma stava all'inizio non l'abbiamo vista no ma speriamo che no dai dai non c'è niente qua mi pare che stavi dicendo? ecco, eccolo vinceremo sta missione ha sbagliato tasto e vai chiudiamo in gloria siamo riusciti a vincerla missione veramente bellissima siamo stati bravissimi, affietati iscrivetevi al canale mi raccomando soprattutto con la gravità mettete mi piace e commentate mandate i vostri commenti basta che non siano dei smile poi tutto va bene tutto va bene dei smile che c'è con tutti i smile? ciao ragazzi sono troppo sintetici ciao 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 ciao